Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon mercoledì, un'altra giornata di sole, quella di oggi a Torino. Ha avuto un po' di nebbia nel corso delle prime ore del mattino, ma ormai la nebbia si è alzata e siamo di fronte a una bella giornata. Tra poco vedremo come si svilupperà dal punto di vista meteorologico. Intanto cominciamo come sempre con alcune notizie di viabilità. Vi segnalo un paio di divieti di transito previsti per la giornata di oggi. Il primo si trova fino alle 19 nel controviale di Corso Unione Sovietica, nel tratto tracorso Sebastopoli e piazzare San Gabriele da Gorizia, mentre il secondo sarà attivo fino alle 19.30 in via Andreis all'angolo con via San Pietro in vincoli per via di alcuni lavori edili. Nella zona di Portapalazzo, poi, vi segnalo, questo pomeriggio a partire dalle 15.00 ci sarà un corteo con partenza da Portapalazzo, da Piazza della Repubblica all'angolo con via Milano, dell'Associazione 3 Febbraio per il sostegno ai richiedenti asilo politico. Il corteo a partire dalle 15.00, vi dicevo, percorrerà proprio via Milano, passerà davanti al Comune e poi arriverà in via Pietromicca per convergere su Piazza Castello, punto finale del corteo. Gli autovelox previsti per la giornata di oggi li troverete in Corso Grosseto, Corso Moncalieri, Strada Druento e via Traves. Andiamo a vedere adesso le notizie relative al tempo perché, vi dicevo, abbiamo avuto una notte con un po' di nebbia qui in città, ma soprattutto una notte fredda. Anche questa mattina le temperature sono basse, siamo intorno ai 7 gradi, 6 gradi circa, la temperatura percepita per via di un'umidità abbastanza alta, siamo comunque sopra il 70%. La giornata di oggi si preannuncia con cielo sereno, ma particolarmente fredda, arriveremo su massime che non si discosteranno molto dai valori attuali, quindi 7-8 gradi al massimo nel corso del pomeriggio. Sarà una notte decisamente anche questa serena, però proprio per questo la nebbia sarà ancora protagonista fino alle prime ore di domani mattina, temperature minime che nella notte arriveranno intorno al livello zero. Passiamo a vedere adesso le notizie di Torino Clic, agenzia quotidiana della città che come sapete trovate ogni giorno in formato PDF sulla nostra home page. La prima notizia riguarda una serie di interventi di manutenzione stradale che sono stati ieri approvati dalla giunta comunale, è stato approvato il progetto definitivo, 12 lotti di intervento, 10 relativi, 1 ciascuno per ogni circoscrizione, con la circoscrizione 5 che è quella che richiede gli interventi di manutenzione più onerosi e altri due lotti dedicati invece all'installazione di guardrail soprattutto in collina e alla sistemazione dei vecchi impianti semaforici, degli ultimi impianti semaforici di vecchia generazione che sono presenti in città. Il dettaglio dei lavori lo trovate nell'articolo di Torino Clic. Torino Clic che vi citiamo anche per la seconda notizia, riguarda infatti i provvedimenti relativi alla viabilità natalizia come ogni anno vengono presi, ieri è stato deciso dalla giunta che dal 3 al 24 dicembre la linea Star 1 e Star 2 sarà attiva anche nei weekend, si tratta degli autobus elettrici che collegano alcuni parcheggi semicentrali con il centro, sarà attiva vi dicevo anche nel weekend, cosa che non succede normalmente e in quei giorni sarà gratuita. Vi segnalo anche che nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre tutte le zone blu del centro, quindi le sottozone A dei parcheggi a pagamento saranno a pagamento anche nei giorni festivi proprio per favorire il ricambio della sosta per gli acquisti di Natale. Spostiamoci adesso sulla nostra home page, vediamo la notizia che abbiamo scelto questa mattina tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, riguarda uno degli omaggi di Torino Giovani, quest'oggi sulla pagina Facebook di Torino Giovani alle ore 15, 4 biglietti omaggio per il concerto della banda Bardot che si terrà domani sera all'Hiroshima Monamuro, ovviamente lo sapete, per vincere un biglietto occorre rispondere velocemente al quiz che comparirà alle ore 15 sulla pagina Facebook di Torino Giovani. Andiamo a vedere la situazione in diretta del traffico con le telecamere del Consorzio 5T, questo è Corso Moncalieri in direzione Nord, vedete la situazione è tranquilla. Spostiamoci al Martinetto all'altezza del Ponte Ramello dove abbiamo invece un po' di traffico in questo momento in direzione di Corso Potenza, questa invece è la situazione di Piazza Aderna in direzione sud su Corso Giulio Cesare, quindi verso il centro, la situazione è assolutamente tranquilla. L'ultima che andiamo a vedere è la telecamera alla Rotonda Maroncelli in direzione di Corso Trieste, qui vedete la nebbia non si è ancora alzata del tutto nella zona sud della città, ci veniva segnalata anche questa mattina fino all'altezza dell'ingotto. Bene, è tutto per questa mattina, grazie per averci seguito, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda e a voi l'augurio della buona giornata.